Come una bella addormentata, davvero ci piace immaginare così Monica Vitti che oggi compie 90 anni. Come una bella addormentata, perché c'è ma non c'è. Da tempo è bloccata nella sua abitazione a causa di una malattia invalidante, da tempo è lontana dalle scene. Eppure cinema e tv non smettono di celebrarla, compreso il bel documentario diretto da Fabrizio Corallo e presentato alla festa di Roma, Vitti d'arte e Vitti d'amore. Io immagino che il meglio sia ancora stato scoperto. Perché l'affetto del pubblico è immutato. Monica, la sua voce roca, il senso dello humor, la capacità di governare il set, al punto tale che non era lei ad affidarsi ai registi, ma esattamente il contrario. Una donna dai tanti volti, quelli del cinema, dell'incomunicabilità, di Michelangelo Antonioni, La notte, l'eclissi, l'avventura. Ma anche la protagonista di una commedia intelligente con la C maiuscola, dalla ragazza con la pistola, d'amore mio aiutami, fino a polvere di stelle, insieme a partner immensi, Tognazzi, Gasman, Giannini e in primo luogo l'amico e collega Alberto Sordi. È bello immaginarla anche oggi così, Monica Vitti, circondata dall'affetto del pubblico, ma soprattutto dall'affetto di suo marito Roberto Russo, che da anni si prende cura di lei. Il loro è davvero un amore senza fine, che forse neppure il cinema è in grado di raccontare con tutta la sua intensità. Lei diceva che comunque si sentiva molto più a suo agio se i suoi compagni di vita appartenevano in qualche modo all'ambiente artistico, professionale, perché sentiva la necessità del confronto anche dopo il set, anche dopo il palcoscenico.